La Rissa! Non faremo tardi a scuola! Ho capito! Ti aspetta Luca! E intanto, facciamo una colazione bella e fresca! La Rissa cresce e ha bisogno di nutrimento e semplicità, proprio come me! Una bella colazione con del buon latte, un frutto e Kinder Fettalatte ha il nutrimento e la freschezza che servono! Latte fresco, miele e pan di spagna sono fatti per questo! Insieme diventano Kinder Fettalatte! Fresca! A colazione!